Ho già visitato nei giorni scorsi i due cimiteri cittadini per vedere quali erano le condizioni, ottimali devo dire, l'ambiente ha fatto un buon lavoro ma cura molto i cimiteri, la nostra società, quindi su questo bisogna sottolinearlo. Oggi sono qui in veste di figlio, di parente, ho qui la cappella di famiglia, quindi sono venuto a dare le condoglianze, il saluto ai miei cari, come fanno tutti i pescaresi, come fanno tutti i cittadini. Sui nostri cimiteri bisogna dire che quello di San Silvestro ha ancora diverse disponibilità, purtroppo il cimitero dei Colli invece sta soffrendo molto ma all'inizio dell'anno partirà un intervento importante di consolidamento atteso oramai da un decennio credo. Abbiamo trovato le risorse, abbiamo fatto già il progetto esecutivo, partiranno i lavori, avremo anche la possibilità di avere altri 70 loculi al momento del consolidamento di situazioni che purtroppo sono da troppi anni carenti. L'attenzione per i cimiteri deve essere massima perché qui ci sono le nostre tradizioni, c'è la nostra storia, c'è la nostra religione, ci sono i nostri cari, quindi le città che curano i cimiteri sono quelle che sicuramente sono in grado di affrontare meglio di altri i temi che riguardano tutti i cittadini. Oggi agli ingressi ci sono anche dei volontari della protezione civile? Sì, noi abbiamo la Polizia Municipale, abbiamo i volontari della protezione civile, abbiamo coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza che noi impieghiamo oramai già da un anno in tante attività di pubblica utilità. Devo dire che Pescara è stata la prima città in Italia a utilizzare i percettoni di reddito di cittadinanza, ne abbiamo oltre 200 occupati nella nostra città per il controllo dei parchi, delle strade, dei cimiteri, devo dire che danno un servizio molto importante per Pescara.